Buono, dopo invece evidentemente gli è scoppiato qualcosa in testa. Cosa raccontava di questa relazione? Quel periodo lì che era assieme a lei, lui era sparito, cioè stava bene con lei, non si vedeva più, non usciva più con gli amici, quindi evidentemente era una storia importante per lui. Però adesso si erano lasciati e sembrava che l'aveva accettata, sembrava. Ogni tanto aveva quella cosa lì, io non lo sopporto più. Lui continuava a dire la storia dei soldi, però lui parlava di 500 euro. Non so se era una scusa, se era una fissa che aveva, però lui diceva che gli aveva fatto dei lavori e lei gli aveva promesso dei soldi. È strano perché in una relazione 500 euro cosa sono? Niente, no, no, assolutamente niente, assolutamente niente, quindi non ho idea di... Anche perché se gli aveva fatto dei lavori era assieme così, mi sembrava, cioè chiedere gli soldi mi sembrava un po' assurdo. Voi amici cosa rispondevate a queste dichiarazioni di Galesi? Niente, gli dicevamo di stare tranquillo che non aveva senso una cosa del genere. Perché anche perché è finita la relazione, basta, fai la tua strada, vai avanti e niente, fai al bar qualche volta di meno. Prima abitava in casa con sua figlia, sua figlia si è sposata, ha avuto un altro bambino. Il secondo bambino lui ha dovuto andare in affitto e quindi magari aveva anche l'affitto da pagare, era un po' corto di soldi. Cioè lui bene o male, come tutti, veniva al bar, beveva qualcosa, però lui aveva la voce alta, aveva un modo di porsi molto, aveva sempre la voce alta così. Però diciamo bene o male era il venerdì che si usciva in compagnia così, che magari si beveva una volta di più. Delle volte esagerava? Sì, delle volte esagerava, ma come tutti, una volta ogni tanto. I momenti ha visto anche degli atteggiamenti particolari, anche nei confronti di altre donne? No, assolutamente no, anzi se c'erano delle donne cercava di attaccare il bottone, di parlare, così. Violento io non l'ho mai visto, non l'ho mai visto neanche arrabbiato. Io non riesco a capire una persona così come può aver fatto una cosa del genere. Non succede neanche un animale col martello, cioè è una cosa troppo cruenta. Allora, prima di andare con Dari a cercare di capire un po' nel profilo social, nei profili social di quest'uomo, se c'è qualche elemento che può essere utile, andiamo a rivedere un attimo questa scritta, perché molti colleghi hanno, compresi noi, inizialmente dato questa interpretazione di questo goditela, però mi sembra di vedere, c'è scritto goditela, è corretto? Sì. Mi sembra di sì, goditela i mille euro e poi la frase secondo me rimane in sospeso. Perché dico goditela? Perché questa scritta appare proprio di fronte alla casa del nuovo fidanzato di Elena, il nuovo compagno. Prima di arrivare ad Aria, dottoressa Bruzzone, è solo una suggestione, secondo me è una frase rimasta a metà, non era goditi mille euro, anche perché poi 500 paregli l'abbia dato, perché fa parte di lavori che ha fatto quest'uomo nel giardino, insomma era stata forse pattuita una cifra e poi per qualche motivo riconosciuta in parte, ma questo nulla attiene, diciamo, a nessun tipo di giustificazione. Però questo goditela, non lo so, è solo una suggestione. Allora, se quella scritta è riconducibile a lui e francamente lo ritengo altamente probabile, è un segnale che lui monitorava la vita di questa donna, gli spostamenti di questa donna e voleva che la sua presenza molesta, intrusiva, persecutoria fosse notata. Perché fare una scritta del genere sostanzialmente sotto casa della donna è un voler rimanere nella quotidianità di questa donna, chiaramente nella maniera peggiore possibile. Questa ce la dice lunga sulla sua volontà persecutoria. Quindi lui viene descritto in maniera benevola, ho sentito dalla persona che abbiamo intervistato prima, però credo che non avessero compreso che in realtà quest'uomo ce l'hava ben altro. Tornando proprio rapidamente sulla questione, qui non abbiamo a che fare con un pazzo. Qui abbiamo a che fare con un soggetto che, come tanti altri prima di lui, ha messo in campo una precisa volontà di vendetta nei confronti di una donna che ha osato umiliarlo lasciandolo. Questo è. Non c'entra nulla la follia, lo so che è difficile da comprendere, ma questa è una lucidità straordinaria. È l'ennesimo omicidio che ha purtroppo delle basi culturali, quelli che gli inglesi chiamano honor killing. Non è molto diverso da quello che è successo a Saman, dal punto di vista della matrice, diciamo, generale. Su questo, scusate, intanto arrivano continuamente segnalazioni di questo e di altre... Il momento del 10% euro credo che non sia quello.